E bello a tutti ragazzi qui al NeonArt ed eccoci qui in un nuovo video, il nuovo walkthrough di Mad Max. Siamo arrivati nell'episodio precedente che abbiamo assemblato il nostro bolide, che è questa qui, la... un catorcio. E ora dobbiamo fare la prossima missione. Allora, eccoci qui. Opera virtuosa, che dobbiamo fare? Non lo so. Allora, iniziamo a parlare un po' del mio canale, visto che non parlo quasi mai, quindi ci tengo ad aprire due chiacchiere con fan, tra virgolette, quando li avrò. Allora, il mio canale è incentrato sul gaming, niente di così impossibile, lo fanno tutti. Però ovviamente cerco di portare quanti più gameplay è possibile, in modo da rendere partecipi i miei fan e dare agli iscritti, alle visualizzazioni che quando li avrò, di far divertire. Il mio scopo è quello, far divertire. Allora, dobbiamo prendere questa. No. Voglio capire che devo fare. Non devo prendere l'auto. Devo camminare a piedi. Allora. Comunque, come dicevo, a me piacerebbe tanto, ma tanto, sfondare in YouTube. E cerchiamo per lo più di accontentare quella fascia di fan che magari vogliono seguirmi. Sperando. Allora, quello che dobbiamo fare è raccogliere i rottami, questo l'ho capito. Dovremmo assemblare la macchina, penso. Ok. Ora, solo spazzatore alti pezzi. Che devo fare? Non è qui a tutto. È solo qui per mantenere. Ok, raccogli la punta. Penso dovremmo modificare la nostra auto, cercando di avere la bestia. Quindi, se ovviamente uno dei primi commentari, tra virgolette, o le live, come si usa sul dire, non sono perfette, perché sono ancora agli inizi, questo è il quarto video che propongo con un commentari sotto, quindi tentare non nuoce. Allora, arpione. Quando è finito, allora, la corazza, non si può mettere, il motore, non si può mettere, le gomme, niente, cioè, niente, basta, ok. Oh, finalmente. Ma quanto è bella la mia macchina? E si. E si. E si. Che. No, 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 no. Io penso che questo sia un gioco molto, molto bello. Mai visto un gameplay del genere, al di fuori di Uncharted, che non era così, però molto, molto bello. E se. Che. 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 Ho visto il film Perché non salto? No Oh Che cazzo fai? Perché no? Spara Spara Non spara Spara lui Eh Sono impedito Spara E la chiama C'è il nome Campamento all'altare Bene Io l'ho sempre detto La macchina Deve sopportare Difese perimetrale potenziale E vai Quando il gioco si fa duro Mi so di scapparla Allora E se tipo Fai questo tipo Rush No Chi Chi No E vai Campamento all'altare Defensas I'll deal with them Before entering It's our first No No They've spotted us now And preparing for battle This gotta be quick Ma No Sì, guarda il carro Godo E guardo il mondo da uno blu Mi annoio un po' Sì, guarda il nostro corso 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 Oh, grande Grande Ora siamo cari, cari, cari Su, mamma mia Destruciamo Sembra il tuo bar, ma non è il tuo testo Sì, vabbè, la Warner Bros. per forza La Warner Bros. fa i combattimenti tutti molto simili Infatti questa è presa da Batman Arkham Knight Arkham City Arkham Origins Che bello Sì, guarda il nostro corso Oh, grande Sì, guarda il nostro corso 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 Dove è che sto andando? Dove sto andando? Dove sto andando? Non lo so Il tempo ci ha portato questo momento, ovviamente Il nostro lavoro, il tuo lavoro, il tuo e il mio Dovrà vi ripresti a ricercarmi quando il tuo spirito è pronto Dio salire Distruggi la pompa di petrole Con tutto me stesso Max accumula furia quando è coinvolto in un combattimento a terra Quando viene accumulata la furia sufficiente Max entra nella modalità furia e tutti i suoi colpi diventeranno più potenti Max rimane in modalità furia per un periodo limitato Fino a quando tutti i nemici circostanti non vengono sconfitti Furia sblocca Salva furia Noo 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 Ma a close line! Certo che ne prendi il buco via Mori! Mori! Ti taglio la testa Oh! Destroi la pompa Faccio che non c'è nessuna ragione di tornare Tannico carburante E dove le prendo? Ora iniziamo questo cerco scrotus Dove le prendo queste cose di petrolio? Tannica di carburante Vabbè Perlustriamo la zona Oh! Guarda qui! A fianco alla nuova Tannico! 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 Eeeeeeeh Smantellato Quindi Per scendere mi devo fare di nuovo tutta la strada? Sì Che bello Ah ecco No, 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 sta la fune Mi sorprendi sempre di più Mad Max No, no, no No, no Buono Si No No Di Per La Ma 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 Stavo il nostro lavoro sul Magnum Opus! Non è per te capire. Lo vedo, hai i vostri segreti ragazzi. Spero te segui, perché credo che fate favore, vecchio chum. E... Hai bisogno di noi. Sì, hai bisogno di andare solo. Poi, prendi questa flair. Quando hai bisogno, vecchio chum. Poi, stai, e... Ok ah ma è quello di prima non lo posso prendere a cazzotti ah there you are shifter of sands letter of blood remnants of a ruined past you say you seek the planes of silence but do you not wander them right now the remains of your life a perpetual flight an escape from all that is human until one day the planes of silence end and you begin you have a purpose in this life my friend although you fear to dream it but pain will come much more pain before this purpose to you is made manifest you know nothing of me look behind you at dune after dune of drifting half forgotten terrors they're your true promise x-ray xd 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 Ah, oppure le abilità da poter usare Migliora l'abilità di Max di ottenere un salute mangiando cibo Longevità Migliora questa abilità di Max di sopportare più danni aumentando la salute massima Migliora questa abilità di Max per usare un'arma da mischia più a lungo prima che si rompa Ho uno Longevità Conferma Perché è a 90? Mad Max biricchino Ah, ecco Griffo, aiutare Max a potenziare le sue abilità in cambio di gettoni di griffo Ottieni i gettoni completando le sfide Va bene Sporesi That's trouble Where's the car? Ah, he hasn't Any trouble? I saw bad guys, eh? Sneaking, spying, wanting to steal her away from us Had to take her somewhere safe No time to waste it We've got a build Yes, yes, yes we do No, we've done righteous work, Saint We have what we need to install the nitros boost We have what we need to install the nitros boost Oh, mamma mia Oh, mamma mia That's pretty good Oh, chumbacca de engineering, huh? Praise me, bulletproof Mamma mia Oh, mamma mia There, aim for the edge and boost the crossing I have to cut things sighting them I am going to save them Noo Spotter, we must silence them before they call our friends No Mamma mia Ti distruggo l'anima Dove sei? Vieni No Puttana Ancora devi morire No Bene Dopo aver guadagnato anche il trofeo Il terzo walkthrough di Mad Max finisce qua Se il video è piaciuto vi chiedo di lasciare un mi piace Un commento su come vi sembra la storia E iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto Facebook, Instagram, tutto in descrizione Qui da Leonardo è tutto Bella Backstage Backstage Ok Rieccoci qua Ma non deve essere così difficile sta missione Siamo noi che siamo delle pippe immonde Allora Allora Sì Perché scelgo se sarà più difficile? Perché mi sembra Mad Max Come gli lanciano lo sperone? Non si arrampica Non si arrampica Cioè un uomo tutto ad un pezzo Non si arrampica Bravo Dove stai andando? Dove stai andando? Vabbè Facciamo outfit Nelle sabbie Sulle rocce E guardo il mondo da uno blu Mi annoio un po' Bene Avrà termine la cosa E vai Cazzo tirando Non si sa mai Vabbè E anche questo Allora Fanculo Basta 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 E viva No Perché vado senza macchina? No Un trofeo Girovago Senza macchina Bene Non ci perdiamo in chiacchiere Eccoci qua di nuovo Pronti all'azione Pronto per un nuovo rush Un rush ancora Ho perduto Che lo sto Mamma mia Tutto quello che dobbiamo fare È dare un colpo Al cecchino Che cazzo Di mirai No No Non riusciamo a battere il coso Esci dal veicolo Behne Behne Un Grazie a tutti.